Fino all'ultimo ululato, eh? Eccolo. Questi erano i Pixies con Where is my mind, la prima scelta del nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, Silvio Lubreto, buongiorno. Salve, benvenuto. Benvenuto. Ti chiedo subito, tanto per rompere un po' il ghiaccio, il perché di questa tua prima scelta musicale. Ma questa è la canzone, insomma, non so, sicuramente molti avranno visto Fight Club, è la scena finale in cui la grande bomba esplode e fa crollare mezza città davanti agli occhi del portaminista. E diciamo c'è una... la bomba è nella storia che racconto anche un personaggio che è sempre sotteso quasi a ogni pagina. E c'è anche un personaggio che è un piccolo Tyler Darden, cioè qualcuno che mette caos, insomma, il cui principale obiettivo nella vita è mettere caos e scompiglio in una società che disprezza nel profondo del cuore. Quindi, insomma, c'era questa doppia attinenza. Combattere gli stronzi, nello specifico. Esattamente, lui specifica, diciamo, è un'accezione poco politicamente corretta che però sottolinea in più occasioni. Non è facilissimo raccontare questo libro perché, vabbè, tutti i libri vanno letti, però insomma alcuni hanno, diciamo, una trama più piatta, altri invece come questo sono un po' più complessi. Diciamo che è un libro corale, così facciamo anche una roba un po' così intellettuale, un libro corale perché ci sono tanti personaggi e più o meno in ogni capitolo cambia il punto di vista, quindi c'è un personaggio che racconta quello che sta accadendo. Lo sfondo, come dice anche il libro, sul fondo sta a Berlino, fondo, sfondo, è proprio la città di Berlino dove avvengono tutti i fatti, dove tutti i personaggi confluiscono. Chi c'è già, chi c'è arrivato, diciamo, in un momento precedente, chi arriva nello stesso momento. E in particolare abbiamo un manager dalla vita doppia, uno di quelli, insomma, spregiudicati, che il lavoro vince su tutto e che soprattutto si sente di poter controllare ogni cosa. L'amore, le relazioni, moglie, amante, figli, vabbè, chi se ne frega, ci stanno, sono capitati, li buttiamo nel quadretto familiare. Lavoro, e che va a Berlino anche sull'onda di una giovinezza vissuta lì, con l'idea anche di ritrovare delle persone con cui ha vissuto. E questo è uno. Poi c'è un personaggio che a me è piaciuto molto, molto divertente, che è questo pusher che va a Berlino trasportando nella propria pancia degli ovuli di droga, ma che in realtà, Saeed, è in cerca, diciamo, di una felicità, anche se non ha ben capito dove trovarla. È in cerca di una tranquillità, è in cerca anche molto di birra, questo va detto. Beh, per lì. E quindi è andato nel posto giusto. E c'è anche questo personaggio di cui tu hai parlato prima, che è questo, qui nella quarta dice profeta del caos, cioè uno totalmente fuori controllo, che cerca di minare appunto la sicurezza degli stronzi nel mondo, rifacendosi tra l'altro ad un personaggio, e questa cosa mi ha molto colpito, che è Gergelser. Chi è Gergelser? Questo lo devo dire personalmente. Avete presente i documentari della storia Siamo Noi? Tu hai presente? No. Beh, manca dall'Italia del 2001. Eh, vabbè, ho capito, ma sono vecchissimi. Comunque, vabbè, ve li ridico. I documentari che fanno su Rai 3, su dei personaggi storici o degli eventi storici, c'è un documentario su Gergelser, che a me è capitato di vedere una sera, che stavo guardando questi documentari fatti benissimo. E chi è lui? Lui è un orologiaio che provò ad uccidere Hitler, che tentò uno degli attentati, più di una persona tentò di ucciderlo, però lui in particolare provò a mettere una bomba in una birreria che era il luogo, diciamo, dove Hitler aveva cominciato i suoi sproloqui e dove tornava più volte. Lui provò a mettere questa, mise questa bomba, ma Hitler se ne andò via un po' prima di quanto aveva annunciato. E quindi l'attentato fa lì. E se vi capita di ribeccatevi il documentario, perché è veramente bellissimo. Non c'entra niente con Adrian di Adriano Celentano, eh? No, no, no. Veramente no. Ed è appunto il personaggio a cui questo pazzo profeta del caos fa riferimento. Ora, tornando al libro in sé, da cosa hai preso ispirazione per questa storia folle? Ma, ci sono diversi spunti. A me piace molto parlare, insomma, descrivere situazioni, posti, anche contesti storici. Mi piace sempre farlo dal punto di vista dello straniero. Io penso che, insomma, chi viene da fuori abbia uno sguardo molto più pulito e obiettivo per giudicare le cose che succedono. Chi nasce e cresce in un posto ha sempre la coscienza e i sensi un po' oscurati dal proprio vissuto, dai calci in culo che uno si è preso, dagli affetti che ha costruito. Quindi ha, insomma, un po' come si dice a Napoli, le fette di prosciutto davanti agli occhi. Invece chi viene da fuori è libero di giudicare per come meglio crede le cose che gli avvengono. E Berlino è un palcoscenico particolare perché, come ogni metropoli, è fatto essenzialmente da persone che vengono da fuori. E vengono da fuori sia gli stranieri che vengono veramente dai quattro angoli del pianeta, ma anche i tedeschi che ci vivono. La stragrande maggioranza non è nata là, ma ha scelto di viverci. Quindi è una città di stranieri. A me piaceva molto, appunto, descrivere Berlino, che è diventata negli anni una città molto frequentata turisticamente, ma anche molto poco conosciuta, perché, come sempre, le rotte tipiche dei turisti sono un po' come le pecore, seguono delle linee tracciate lasciando da parte magari le cose più interessanti. Quindi lo spunto era raccontare questa Berlino sconosciuta e dare una dimensione sia geografica, urbanistica, ma anche storica, perché appunto la figura di Georg Helzer, che è il bombarolo più sfigato del ventesimo secolo, ce la volevo mettere. Ma anche, insomma, interrogarmi su alcune cose. Tu descrivivi prima i due personaggi, insomma, Saeed e Felice, tra parentesi Saeed in arabo vuol dire Felice, quindi sono un po' due facce della stessa persona. E, insomma, due persone così diverse, uno un manager di mezza età, sostanzialmente di estrazione borghese, e l'altro un immigrato di seconda generazione che è abituato, insomma, un sottoproletario abituato a camminare da quando è nato nella linea che separa la legalità dall'illegalità. Però questi due personaggi, che non potrebbero essere più diversi a uno sguardo superficiale, in realtà sono molto simili e non è solo il nome che li lega, ma è anche, insomma, la visione del mondo, il guardare all'altro solo attraverso il vantaggio che se ne può trarre, questa idea un po' infantile della felicità totale a tutti i costi, del tutto si deve sistemare, del tutto deve andare a posto. Tutte e due vanno a Berlino come un viaggio che dovrebbe essere l'ultima spiaggia, diciamo, la svolta che può mettere a posto tutto quello che non va nelle loro vite, e tutti e due si avvitano in una serie di errori e di sbagli che li lascia, diciamo, scivolare fino sul fondo del baratro. E qui arriviamo ad un altro punto, che è un po', insomma, su cui mi piace scrivere e, insomma, creare paradossi, è che, secondo me, le grandi differenze, quello che divide le persone, non è la lingua, non è il colore, è la pelle, non è la religione, ma, insomma, la grande differenza, il muro che separa gli esseri umani è un muro di classe, e quindi due persone così simili, che si chiamano anche allo stesso modo, insomma, hanno vite completamente diverse, essenzialmente solo perché vengono da classi sociali diverse, e questo provenire da contesti sociali così diversi determina le loro scelte, il loro orizzonte, quanto siano drammatiche le conseguenze dei loro errori. Devo dire che in questo libro, poi, il caos, che sia più o meno impersonato da una figura, è quello che poi livella. Io adesso, ascoltandoti, anche, diciamo, non capisco, però, ecco, illumino certi momenti del libro in maniera un po' più chiara, e si parte da condizioni totalmente diverse, ma si arriva a un certo punto che quasi non riesce a capire di chi stai parlando. Cioè, c'è una confusione, a un certo punto, voluta, di personaggi che, in qualche modo, finiscono in una rete e finiscono un po' per fare le stesse cose o comunque per avere le stesse spighe, ecco, mettiamola così, per essere colpiti allo stesso modo dal manganello del destino, che ci fa capire che, in realtà, poi, davvero, messi in certe condizioni, siamo tutti uguali, ecco. Ora, io chiederei di mettere la seconda scelta musicale, che è... però spiegacela. Qual è la seconda? La seconda, sì, esatto. Sì, è un... insomma, è una... Sinfonia del Grossestad è un film muto del 1927 di Walter Ruttmann, ma è un film incredibile, perché, insomma, se si astrae, insomma, il bianco e nero e, diciamo, i personaggi che figurano in questo film muto, sembra girato due anni fa. Ed è una giornata a Berlino nel 1927, dall'alba fino al tramonto. E stupisce, ma veramente nel profondo, quanto a quell'epoca Berlino fosse incredibilmente moderna, sperimentale e incredibilmente avanti. E se si dà una dimensione storica a questa cosa, insomma, ci si chiede anche come sia possibile che tre anni, pochi anni dopo, questa modernità, questa tolleranza, questa continua sperimentazione culturale, musicale, artistica, pochi anni dopo hanno incominciato a bruciare i libri davanti all'università e è arrivata l'ondata nera che ha cambiato poi la storia dell'Europa. È un film incredibile sul quale un gruppo di musica elettronica di Berlino ha montato una nuova colonna sonora ed è... e ci sta benissimo. Cioè è un film del 1927 che essenzialmente era un film super sperimentare all'epoca, ebbe molto poco successo naturalmente. Semplicemente è una telecamera che ritrae scene di vita a Berlino, dall'alba fino alla notte, dalle fabbriche, per strada, nelle knaipe, nei locali dove si balla, con questa musica elettronica che ci sta benissimo e sembra nata con il film. Forse è un film che insegna che bisogna stare sempre attenti, nel senso che poi le cose possono cambiare con molta facilità. Vai, ce l'ascoltiamo! Eccoci, siamo tornati, stavamo discutendo, discorrendo su questa bellissima colonna sonora, che in effetti, diciamo, poteva quasi essere la colonna sonora del libro, giusto? Sì, un po' sì. Un po' sì. E stavo pensando che, ultimamente ho letto un altro libro che un po' mi ricorda questo, che tra l'altro è di un'altra casa di liceo indipendente, quindi sono felice di citarlo, è sentito da Come belve feroci, di Giuse Alemanno, edito da Las Vegas Edizioni, che secondo me ha un po' a che fare con questo modo di raccontare molto diretto, molto dalle voci dei protagonisti. Tornando al libro di Silvio Rubretto, stiamo parlando di Sul fondo sta Berlino, edito Casa Silvio. L'avevamo detto? No, accidenti, dobbiamo dire. Casa Silvio Edizioni. Tra l'altro, quale meravigliosa fortuna trovare una casa di liceo che si chiama quasi come te. Non glielo l'ha detto nessuno. Ma glielo dirò di nuovo io, perché è molto importante. Prendere per il suo capione, diciamo. Esatto. Dopo 12 anni, se non sbaglio. Stiamo parlando appunto di Sul fondo sta Berlino. Sulla copertina c'è un'immagine particolare, sulla quale ti vorrei chiedere delle spiegazioni. Nel libro si parla spesso di questo albergo. Un albergo che è, diciamo, teatro di parecchi eventi, nel quale molti dei protagonisti o passano, o alloggiano, o dormono, o semplicemente entrano ed escono. E in questo albergo c'è un enorme acquario. Un acquario talmente grande da riempire tutta una sala. Addirittura c'è un ascensore che ci passa in mezzo. E visto che è tanto specificato da essere addirittura sulla copertina, vorrei che tu mi spiegassi qual è, forse c'è una metafora dietro, o è molto caratteristico, non so, per quale motivo ha così tanta importanza. Allora, ci sono, potrei fare molte metafore, però devo fare prima una premessa. Insomma, Berlino ha un tessuto urbano assolutamente unico in Europa e soprattutto per quasi 30 anni ha avuto una ferita aperta che ha completamente diviso la città in due, che era il muro. Il muro non era un muro, in realtà erano due muri con una terra di nessuno in mezzo, che in alcuni tratti era molto molto grande. Quando il muro è caduto, questa enorme aria urbana vuota, questa terra di nessuno, è stata improvvisamente, doveva essere riempita. E siccome i soldi erano molto pochi, perché Berlino in realtà è stata storicamente una delle città più povere nella ricca Germania, è stata riempita attraverso più ondate in modo assolutamente caotico. E siccome, insomma, molti privati hanno avuto più o meno carta bianca per fare quello che volevano, hanno fatto delle opere quantomeno, insomma, in alcuni casi davvero strane. Insomma, c'è questa Potsdamer Platz, che è una specie di astronave piombata nel centro della città, e poi c'è quest'acquario dove in realtà ho passato interi pomeriggi insieme a mio figlio piccolo, insomma, quando fuori nevicava e faceva troppo freddo, e restavamo in contemplazione questo cilindro che contiene, non so, quante migliaia di litri d'acqua e pesci tropicali, che sta nella hall di un hotel, in pieno centro, insomma, a pochi passi da Unter den Linden, che è lo stradone che porta alla porta di Brandenburgo, dietro il Duomo. Ed è anche questo, un'astronave totalmente, insomma, avulsa da qualsiasi contesto sociale, urbanistico. Ed è un posto che è una, insomma, un po' come molti posti a Berlino, è un po' una vetrina. Come ci sono i pesci che girano attorno a questo cilindro 24 ore al giorno, così in molti posti, soprattutto molti locali, sono fatti un po' come degli acquari, insomma. Sono fatti per, insomma, si va in un posto per farsi vedere, non basta bere una birra o mangiare qualcosa, ma si sta in vetrina e ci si mette in mostra come in un acquario. Quindi, insomma, questa è la metafora, però essenzialmente è un posto allucinante, insomma, la prima volta che si vede, adesso mi sono abituato, però si resta a bocca aperta, perché non ha nessun senso. Tra l'altro questo discorso anche del guardare, essere guardati, di far parte, diciamo, di un meccanismo più grande, nel quale tu sei convinto di essere protagonista, ma in realtà non è così, ed è, devo dire, molto vero in questo libro, nel senso che, come ho già detto, i personaggi partono da una condizione, arrivano totalmente ad un'altra, sono, diciamo, non si rendono conto poi di come stanno proseguendo le loro vite, cioè partono da sicurezze enormi e vanno a finire nel caos più totale. In questo c'è anche il riferimento al discorso del terrorismo, in qualche modo. Cioè, c'è in maniera abbastanza diretta, ma io sono sicura che non è solamente un discorso, diciamo, legato ai tempi storici o alla banalità, diciamo, del terrorismo, ma forse anche su come noi vediamo un po' il terrorismo e su quanto questo rientra nel discorso delle culture diverse, cioè su quanto sia pericoloso, soprattutto in questo discorso. Diciamo, in un posto, tra l'altro, come la Germania, che forse insieme alla Francia è quello più interessato da questa cosa, insieme a me, sì, dove sono successe più cose negli ultimi anni. Parlami un po' di questo punto del libro, di questo argomento. Ma, insomma, a me piace molto giocare con i paradossi, quindi, insomma, il paradosso nel libro è che, insomma, i bombaroli, esattamente come tutti gli altri personaggi, sono diversi i bombaroli e, insomma, anche i bombaroli sono molto sfigati. Insomma, il paradosso, la cosa che mi ha più colpito è che, in qualche modo, negli ultimi anni, questa nuova generazione di terroristi, insomma, dell'ISIS, io li vedo molto più europei che medio orientali, insomma. Questa cultura del... è un po' una cultura del talent, insomma. Fino ad Al-Qaeda, la metto giù semplice, però fino ad Al-Qaeda, diciamo, l'aggregazione politica, arrivare al terrorismo era comunque una forma di aggregazione politica che partiva dalla militanza, dall'indottrinamento. Adesso, diciamo, questa nuova generazione di terroristi, e il terrorista YouTube è, diciamo, è gente che ha accampato fino a dieci minuti prima dell'attentato come un qualsiasi cazzone di periferia, vendendo fumo, ballando in discoteca e facendo la rissa il sabato sera e poi improvvisamente riscatta tutta una vita con questi dieci minuti di celebrità. E sì, ci sono parecchi paradossi, perché, insomma, molti non lo sanno, ma la più grave strage, prima della strage del mercatino di Natale, insomma, di tre anni fa, era stata una strage in Drangheta, in Germania, la strage di Duisburg. Quindi, voglio dire, insomma, in questo gioco di specchi e di luci uno poi si dimentica che, insomma, se c'è un popolo che ha esportato il modello criminale ovunque nel mondo, è quello, siamo noi. Se possiamo prenderci dei meriti, ma perché no, ecco, devo dire. Esattamente. E c'è una cosa che mi piaceva molto in questo libro, che è, per essere aiutati i poveri devono essere come piacciono ai ricchi. I poveri che sono come sono vengono evitati come le cacche di cane per strada. E il riferimento è anche un po' a quello che dicevamo, cioè anche per essere cattivi, anche per essere poveri, e anche per avere dei ruoli, diciamo, negativi, comunque devi assomigliare a un modello. Cioè non si può essere come si è, mai, neanche nel negativo. No, ma insomma, una delle prime, insomma, la storia è inventata nell'inverno del 2015, che insomma, non so chi se lo ricorda, però nei mesi invernali tra il 2015 e il 2016 fu quest'esodo di massa, insomma, si aprì la, 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 diciamo, la rotta balcanica dei migranti, arrivarono nel giro di pochi mesi un milione, un milione di, di, di profughi in Germania. E io rimasi, ehm, stupito da quest'ondata di empatia essenzialmente positiva, anche da parte della stampa più conservatrice. Persino a Bill Zeitung, che il giornale forse più conservatore in Europa, si spese, insomma, il raccoltè di, di, di fondi, insomma, promuovendo carovane di macchine che andavano a prendere i profughi al confine austriaco. E vidi quest'ondata emozionale, da buon cinico quale sono, con molto scetticismo, perché mi chiedevo, l'emozione è un po' come una lente di ingrandimento. Leggere la realtà, un evento sociale, politico, attraverso l'emozione è molto pericoloso, perché la lente di ingrandimento può rendere tutto meraviglioso, ma lo può rendere anche terribile e terrificante. E mi chiedevo cosa sarebbe successo che avrebbe trasformato quest'ondata di empatia positiva in qualcosa di terrificante e di orrendo. E mi sono ricordato di un pezzo dell'opera Tre Soldi di Brecht, che ho messo anche come esergo all'inizio del romanzo, in cui, insomma, questo uno dei personaggi che gestisce il racket dei mendicanti e ha una serie di corredi da mendicanti, c'è lo storpio, il cieco, il giovane di buona famiglia decaduto, e da ognuno prende una percentuale diversa, perché naturalmente ognuna di queste figure rende in maniera diversa. E arriva effettivamente questo giovane di buona famiglia decaduto a cui dice di spogliarsi e di dargli vestiti. E lui chiede, ma perché? Che ci fai con i vestiti? E il corredo è, giovane di buona famiglia decaduta. Dice, non lo posso tenere io, faccio il giovane di buona famiglia decaduta. E lui dice, no, perché alla tua vera miseria non crede nessuno. Se dici di avere mal di pancia e hai davvero mal di pancia, questo dà solo una nausea al prossimo. Ed è un po' così. Quindi vedendo quest'ondata di profughi siriani che arrivavano, io mi chiedevo, che cos'è che fa scattare l'interruttore dell'empatia? Perché un siriano sì, è uno che viene dal Chad o dal Niger, che magari dieci volte è più sfigato di quel siriano. No, non ha diritto all'empatia e alla pietà degli altri. E nel libro gioco su questo paradosso, è uno dei protagonisti che Said si trova su malgrado a essere scambiato per un profugo e capisce, ma lo capisce sulla pelle, insomma, per istinto, che meno dice meglio è. Perché meno dice più lascia all'altro la possibilità di proiettargli addosso quella che è, insomma, la propria personale idea di povero, di profugo, di sfigato arrivato da fuori. Quindi, insomma, lui a un certo punto sa che se apre bocca tutti si accorgono che non è siriano, che non viene dalla guerra, e decide di mantenere un silenzio di tomba e di fatti passa, è quello più aiutato di tutti, perché, insomma, tutti immaginano... Passa la selezione dello sfigato. Esattamente, passa tutte le selezioni, perché naturalmente il suo silenzio è la porta aperta a ogni tipo di proiezione da parte dell'altro. Un'ultima domanda, prima di mettere poi anche l'ultimo brano. Com'è cambiata Berlino in questi anni in cui tu sei stato... Tu sei lì dal 2001, hai detto, no? Quindi, insomma, sono passati parecchi anni. Com'è cambiata questa città? Ma è cambiata tantissimo, ma Berlino è cambiata più volte, insomma, ha cambiato radicalmente faccia più volte durante il ventesimo secolo e l'ha fatto dopo il 2000. Il più grande stravolgimento, naturalmente, è stato dopo la caduta del muro, insomma, tutta la struttura urbanistica e quindi di conseguenza anche sociale della città è stata rivoluzionata più volte. Quello che è cambiato molto, ma veramente negli ultimi anni, negli ultimi, direi, cinque, sei anni, è che quella che era essenzialmente sempre stata una città molto povera, insomma, all'inizio del 2000, Berlino aveva il tasso di disoccupazione più alto in Germania, il 25%, quasi napoletano, diciamo, come percentuale, ha cominciato a diventare una città ricca, dove sono arrivati un sacco di soldi, perché un sacco di multinazionali hanno aperto call center, centri di servizi, e quindi, insomma, questo ha un po' stravolto anche l'economia della città e, naturalmente, i prezzi sono saliti vertiginosamente. Era una città assolutamente low cost e questo, naturalmente, cambia l'economia e il motore, purtroppo, più veloce del cambiamento sociale, però è una città che, allo stesso modo, resiste. Diciamo, lo dicevo all'inizio, è, come ogni metropoli, un posto fatto da gente che viene da fuori e che decide volontariamente, per una qualche ragione, di stare là. La differenza rispetto a altre città è che ha un tessuto urbano così grande, così vasto, che lascia ognuno la possibilità di ritagliarsi il suo angolo di vivibilità e questo accade ancora oggi ed è un po' l'altro lato della medaglia perché quando si arriva tu hai l'impressione che sei il posto più tollerante del mondo in realtà poi col tempo scopri che parte di questa tolleranza è una sorta di indifferenza controllata perché ognuno ha il suo angolino dove si sente al sicuro, ognuno ha il suo angolino dove è libero di pensare che tutti gli altri siano come lui e quindi si tiene a distanza dall'altro insomma è come se uno dicesse fammi capire, è meno possibile, parlami meno possibile di te perché poi potresti starmi antipatico e a quel punto non ti posso più ignorare come faccio adesso quindi è una città in continuo di venire diciamo, dinamiche che in altri posti avvengono sulla scala dei vent'anni la li vedi in mesi però è un posto che a me piace tantissimo è un posto super dinamico con un'attività culturale, sperimentale insomma è un posto bello dove vivere ancora oggi Allora, abbiamo parlato con Sirio Lubreto autore di Sul Fondo Sta Berlino Casa Sirio Editore è un libro veramente bello nel senso molto ricco che vi farà riflettere su tante cose e forse se ascoltate anche questa chiacchierata vi aiuterà secondo me forse a capire ancora di più dopo che avete letto il libro però così vi illumina No, non abbiamo spoilerato niente per carità anche perché voglio dire succedono talmente tante cose che secondo me il concetto di spoiler tranne forse per una cosa non è neanche troppo troppo utilizzabile per questo libro e l'ultima scelta è una scelta che più vicina al nostro cuore non poteva essere specialmente a quello di Flavia stiamo parlando di De Andrè con il bombarolo ovviamente motiva ce l'ha ma questa era un po' più facile da comprendere e dopo tutto quello che abbiamo detto magari qualcuno è arrivato no, vabbè insomma la bomba è diciamo il personaggio che mai si rivela durante tutta la storia abbiamo parlato di Elser abbiamo parlato dell'Isis quindi insomma il bombarolo di De Andrè non poteva mancare è il personaggio diciamo in pectore di tutta la storia grazie mille Sirio Lubreto per essere stato con noi sul Fondo Sta Berlino ci ascoltiamo il bombarolo di De Andrè grazie a voi ciao ciao